amici per una nuova avventura con sergio ragazzi stasera guardate qua dove siamo mega pista di macchinine pronta e pronta per la gara raga praticamente siamo qua in compagnia del nostro amico roberto ciao ragazzi che praticamente qua ci ha concesso la l'utilizzo della pista tutta per noi tutta per noi però bene solo per solo macchinine raga praticamente roberto si trova a pugno chiuso sul gargano nel resort di pugno chiuso con questa fantastica pista di macchinine elettriche raga è una novità assoluta queste non sono macchine a scontro vero sono macchine da circuito da circuito mamma mia una vista raga bellissima adesso ve la facciamo provare o meglio ve la fa provare sergio perché solo sergio ci va forse papà farà un giro forse però è tutto da vedere allora se tu sei pronto sei pronto per procedere procediamo allora se mi raccomando non devi colpire le macchine l'obiettivo è quello di non colpire le macchine sei pronto pronti partenza via eccolo qua ragazzi è partito sergio l'obiettivo che tiene praticamente stasera non deve colpire le macchine guardate qua guardate qua guardate qua bravissimo primo gigantato perfetto perfetto mantieni veloce veloce accelera tutta birra vai velocissimo papà mi raccomando guardatelo guardatelo là guardatelo com'è bravo guardate che pista questa è una pista bellissima raga la trovate solo qua a pugno chiuso novità assoluta quest'anno guardatela qua guardatelo qua com'è bravo bravissimo bravo bravissimo forte 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 tra poco raga secondo me parte pure papà mi sa mi sa sei bravo vai 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 bravissimo però è curva doppia curva chicane bravo 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 non ha toccato neanche un cordolo è stato bravissimo vero bravissimo bravo bravo si è concentrato se però puoi pure salutare un po gli amici qua che ci seguono eh salutali salutali ragazzi ciao saluta gli amici ciao ci siamo quasi verso la fine sta completando sta completando ci siamo quasi le ultime curve la macchina inizia a lampeggiare ci siamo ci siamo bravissimo sergio bravissimo ultime curve ultime curve bravo ottimo eccolo 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 raga allora praticamente adesso l'amico roberto ha messo un altro ostacolo e sergio sta cambiando macchina macchinina gialla numero sempre 5 sei sei pronto facciamo un altro un altro giro un altro giro con la macchinina gialla pronti partenza via raga questa macchinina gialla va velocissima sergio senza frenare senza frenare non fermarti mai grandissimo bravo 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 guardatelo qua wow guardate com'è bravo niente neanche un ostacolo neanche un ostacolo mi raccomando qua attenzione vai secondo giro perfetto 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 bravo 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 eccolo eccolo che arriva eccolo che arriva mantieni la concentrazione bravo guardate com'è veloce guardatelo qua ciao sta concentrato raga non ci saluta neanche niente non ci vuole salutare ci saluti ciao niente niente sta concentrato raga niente da fare proceda tutta birra vabbè queste macchine che velocità raggiungono queste macchinine allora queste macchine vanno all'incirca 20 all'ora 20 all'ora? si ma però è buono eh eh si si la più veloce la gialla è veloce però la gialla è veloce molto veloce però pure la ferrari rossa quella parcheggiata si anche quella là sono tutte quante da provare cioè vanno provate tutte quante una per una venite qua mi raccomando a puglio chiuso le trovate qua vero Robè? è vero tutta l'estate tutta l'estate sta qua Roberto raga noi praticamente tutte le sere stiamo qua ovviamente ci trovate pure a noi tutta l'estate vai Sergio bravo grande ultimo giro ultimo giro la macchina lampeggia quando la macchina lampeggia vuol dire che sta per finire la batteria si la carica sta per saprissi e quindi tra poco finita finisce Sergio sono gli ultimi giri gli ultimi giri non fermarti mai non fermarti mai è tutta birra bravo bravo è l'ultimo eh è l'ultimo è l'ultimo eh ci siamo eh però dura eh il giretto dura abbastanza eh due minuti due minuti e venti secondi due minuti e venti secondi il giretto in macchinina raga eccolo qua finish finish bravissimo papà sei stato bravissimo troppo belle queste macchinine raga vieni qua Sergio vieni vieni per i saluti finali con Roberto salutiamo tutti quanti gli amici allora volevamo ringraziare a Roberto che ci ha concesso l'utilizzo della pista poi a pugno chiuso ovviamente raga se vi è piaciuto il video pollice in su e la cosa più importante iscrivetevi al canale ciao ragazzi alla prossima avventura ciao a tutti ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti